Buongiorno a tutti e buon inizio settimana. L'Italia si trova compresa tra due strutture, a Levante da una saccatura di origine polare caratterizzata da correnti molto fredde che lambiscono i Balcani, ad Ovest un'area depressionaria atlantica posizionata sulla penisola iberica. Questa configurazione fa in modo che sulla nostra penisola si mantengano condizioni di alta pressione a cui è associata la formazione delle tipiche nebbie mattutine nelle aree vallive e nelle conche intermontane della nostra regione. Nebbie che nel corso della giornata lasceranno comunque spazio al sereno. Non facciamoci però troppo ingannare dal sole perché la ventilazione da debole a moderate inizialmente da nord-est e poi in rotazione da nord sul litolare porterà ad un generale abbassamento delle temperature, più accentuato sui settori adriatici. Le massime di oggi sfioreranno i 15 gradi. Il mare adriatico sarà generalmente mosso. Per la giornata di domani non sono attese variazioni di rilievo, avremo ancora cielo sereno o poco nuvoloso accompagnato da un temporaneo rialzo termico ed un repentino cambiamento della ventilazione dai quadranti occidentali. La giornata di mercoledì segnerà invece un'inversione di tendenza poiché il promontorio di alta pressione subirà un arretramento verso meridione lasciando il campo ad aria più fredda e di stabile dai quadranti settentrionari che sarà preludio di una nuova fase perturbata. Per il momento con il meteo concluso e vi ringrazio per l'attenzione.